No, no! No, no! No! No, 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 blotone, fianco, sinistra, sinistra, blotone, attiti, risso, attiti, risso, attiti, intalate di risso. Senti, basta. Oggi comincia il vostro addestramento e vi voglio particolarmente reattivi. Tu, perché sei qui? Dunque, io sono qui perché... per servire la patria, signore. Bravo. E tu, perché sei qui? Per servire la patria, signore. Per servire la patria, signore. Tu, perché sei qui? Per servire la patria, signore. Abbiamo imparato i discorsi e tremori ormai. Servire la patria, servire la patria. Ma che cos'è? Che cos'è la patria? È facile, comandante. La patria è la mia nazione. No. Come no? La patria è tua madre. Cos'è? Tua madre. Perché sei qui? Per servire la patria. Che cos'è la patria? La patria è mia madre. Bravo. Senti. Comandante. Perché sei qui? Per servire la patria. Che cos'è la patria? La patria è sua madre. Senti, basta!